Vetture lusciose, quella di Pistacchio, numero 789, Max Longo, il pilota di Carina, vincitore del Pistacchio, numero 789, categoria Pro FI 2015 contro Beatle Steiner, con la Cervo Le Corvetti 3, dall'altra parte, vettura cattilissima, con 708, Frank Asselbrenner, il pilota di adesso, con la massa muro, 704, con la grafica Mentre Deutschland, dove in classe, la massa anti-gas, stampate sulle portiere, Pistacchio, pilota di Pavia, Renzi, problema tecnico, l'udito, è l'entrante di Pistacchio, segnale vostre Pistacchio, 8 per 8. Impressionante la vettura tedesca, donata via!